è da poco, va a 60 anni sarà un mesetto, va nemmeno aveva un tumore si, ha il cervello da 20 anni la bionda no, ha capelli corti si, si, ha capelli scuri e corti tanto adesso lo documentiamo guarda che bellina stavo stavo e io voglio le luci se no io da parte maura questa oh che bello panda faccio un attimo in wheel una foto ok ma non ti crediamo non ti crediamo e non ti crediamo qua c'è un leone non ti crediamo 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 non ti credi non ti credi non ti crediamo ma dov'è fabrizio and then go right over here there's a Christmas Halloween it's Christmas Christmas halloween c'è 4 o 5 mostruitos in la porta chill no, no, no ok, we're gonna go we're fine alright, give me a second alright, alright, alright semilla 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 bello a conscience ebbè non ci consome chissà che cosa ma per me l'hanno visto il cammello per esempio kanuster Ha visto il cammello come l'hanno fatto? Il cammello? Eh! Non finita il bue e l'asinello? Il bue e l'asinello? No, il bue non c'è C'è l'asinello e il cammello C'è l'asinello e il cammello E lì? La peccora C'è il bue e lì? J'ai fatto il bue e lì? Non c'è il bue. Che c'è la via? C'è la via? Non c'è la via? T'vià la via? C'è la via? Ah, non preoccupi Ah, c'è lì? C'è la via? Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Sì, è bello va bene? no, la 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 beneduttia wow il ragazzo è stato pickledo il ragazzo parla attocci ma sta ancora guardando maura ancora guardando maura piacerà questa cosa e vorranno farlo anche loro e ci chiamano per addobbarle fatto? sì sì sto già registrando eh no è morito veloce bello proviamo a girare a sinistra? no no vai dritto sicuro? sì stavano andando a sinistra ma questa l'abbiamo vista? no 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 sì 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 che l'abbiamo vista questa sì 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 eravamo fermi qua perché qua avete fatto le foto l'abbiamo fatta le foto sì sì e poi eri adesso? bisogna girare a sinistra qui? lì vero qui non posso girare a sinistra stai da questo lato no adesso a destra dice era qua scaloni